Ciao, amico di Anime Factory. È da tempo che il ladro gentiluomo sta pianificando tutto nei minimi particolari per portare a termine il colpo del secolo. L'uscita al cinema di Lupin III The First. Non vedevo l'ora. Questa nuovissima avventura, realizzata con una computer grafica spettacolare, vedrà in azione tutti i personaggi storici di cui sei perdutamente innamorato da sempre. Perfetto, allora si va. Lupin, ora per colpa tua questo posto diventerà un grande casino. Il film che nessun fan di Lupin si deve perdere. Sembra essersi fermato. Parola di samurai. Lupin! Allora cosa aspetti? Tieniti pronto ad andare al cinema insieme a tutta la banda. Sono certa che non ti deliderà. Solo Zaza riuscirebbe a farselo scappare. Lupin! Dove credi di andare? Può provare? Proviamo. E adesso se ne stanno. Ci vediamo al cinema. Questa era... C'è un'interferenza. Ciao Lupin! Ci vediamo!